Musica Silva Candioli, project manager della fiera. Per capire in diversi anni, otto ormai, che questa fiera viene creata, viene messa in piedi, tra l'altro ormai viene esportata in quasi tutta Italia, poco a poco cambiamenti, piccoli segreti e novità che magari bisogna andare a scoprire? Sì, infatti bisogna andarli a scoprire perché non sono visibili nel primo momento, perché le novità di anno in anno sono piccolissime, però se andiamo a confrontare una finestra che è stata esposta alla prima edizione del 2005, con quella che vediamo adesso c'è una grandissima differenza. Un project manager di una fiera, anche per spiegarlo ai nostri spettatori, che cosa fa veramente? Che qual è il suo segreto? Fa di tutto e di più. Risponde a mille domande che hanno gli espositori, anche i visitatori, anche gli accompagnatori di quelli che vogliono frequentare i congressi, aiuta a fare le pre-registrazioni, un po' di tutto. La sfida di esportare la fiera in altre città d'Italia cosa rappresenta? Ma della verità sono stati proprio gli espositori stessi a chiedere di esportare questa fiera, perché hanno detto che qui vengono visitatori da tutta l'Italia, perché voi non andate incontro a queste persone. E allora ringraziamo Silva Candioli, project manager della fiera di Bolzano, e in particolare appunto di Casa Clima e continuiamo con i nostri spettatori a scoprire giorno dopo giorno, ora dopo ora, i segreti della nuova edizione.